Il governo nazionale dice di tagliare gli sprechi, lo dice e lo ripete innumerevoli volte e poi è la volta dei governi regionali che riportano di pari passo le disposizioni. Ma il Movimento 5 Stelle oggi porta all'attenzione alcuni fogli che dimostrano il contrario. Esistono 7.000 euro spese ogni giorno dall'asla di Pescara per l'utilizzo di un macchinario che a conti fatti da 7 anni ad oggi sarebbe potuto essere acquistato risparmiando una cifra che ora ne costa molto di più. Si tratta della PET CT, costo 2 milioni di euro. In tempi di spending review, dopo aver ascoltato quello che ha detto il nostro Presidente, il Consiglio Renzi, io ritengo che bisogna mettere mano a queste cose, ma seriamente non le passerelle politiche che fa il nostro Presidente della Regione Luciano D'Alfonso. Ebbene stiamo parlando di un'apparecchiatura sofisticatissima che si chiama PET CT, che si occupa di visualizzare eventuali patologie oncologiche ed è allocata all'interno dell'ospedale di Pescara, nel recinto dell'ospedale di Pescara, all'interno di un camion, un tir. Ebbene questa apparecchiatura, la scelta del Servizio Sanitario Regionale è stata quella di affittare questa apparecchiatura. Non solo l'apparecchiatura, ma due figure professionali, un medico di medicina nucleare e un tecnico di medicina nucleare. A far poi preoccupare i pentastellati sono le denunce giunte per l'organizzazione del macchinario, altamente radiattivo e che, secondo le linee guida, necessita di accortezze che pare non siano rispettate nell'ospedale di Pescara. Pazienti contaminati da radiazioni che circolano per i corridoi accanto a persone ignare del rischio. Un problema gravissimo è che il paziente che viene preparato, prima di andare all'interno di questa apparecchiatura a sottoporsi all'indagine, viene preparato all'interno dell'ospedale con l'iniezione di un radiofarmaco, un radiofarmaco che lo rende radioattivo, e poi deve transitare all'interno di una serie di reparti e di corridoi e quindi andare in contatto con eventuali pazienti, madri, bambini e quant'altro. Il paziente è radioattivo e può essere fonte di contaminazione e di pericolo.